Prendetele se le mette il movimento di trasporto e a Capitale Dili durante la visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Durante la visita a sua santità di Papa Francisco, ma a Timor-Leste e a Laurencia, loro sono decisamente da fulla settembre di Nenem, il governo decide se le mette il movimento di trasporto e non mostre attività economica e a Capitale Dili. A me buono c'era tamba, c'era neccan, e a me buono c'era parcero per il desenvolvemento. A me buono c'era per il vostro a pagare a casa, per esempio, se a dianggata di una loran bontra, e le visitano la parcero per la casa, e i buono c'era parcero per i buoni di trasporto internava, ma a tosione della visita alla paga, ma a fermi di riso a fare per i buoni di riso a una sana, con il movimento ma qua, abbiamo bisogno di limita tutto ma in termini di operazioni per la loro operazioni di attività di business, attività di commerciare, non è problema la nostra operazione, non è problema. Ci sono restrizione per compradorsi, un po' di compradori vale a 1 anno, 1 anno 30. La nostra operazione, non è problema, ma lo che mi piace, non è problema, non è problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.